E' una storia impressionante, triste nel contempo, quella che sto per raccontarvi. Era una sera d'inverno e di una campana si udiva il grinto colontà. Il vespro è già finito, si chiude la chiesetta ed esce una vecchietta. Vede qualcosa poggiata sul freddo gradino e in fasce si muove, sarà certo un bambino. Un piccolo neonato che una mamma snaturata ha abbandonato. Ma la vecchia fa uno strillo e saltando come un grillo fugge via. Quel bambino con le fasce da neonato non è altri che un uomo nudo abbandonato. Chi è? Chi sarà? Chi è? Chi sarà? Ad indagini computer risultò essere un bimbo abbandonato da una signora di 30 anni fa. La vecchia lo prende e a casa lo porta, non è la sua mamma ma a lui non importa. Ha 30 anni e c'è il barbone, ma è rimasto un bambinone. Dorme sempre e non sa nulla, e la vecchia cantandolo culla. Ninna na 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 na, che te giorde la nonna. Canta e balla la vecchietta, ma non sa quel che li aspetta. Con quel canto il bimbo si destra per la vecchia e gli ad anche a sotto un testa. Canta e balla la vecchietta, ma non sa conseguenza un bambino, sins d' USB. 체 attraverso il suo amore gli ad anche qualcosa? La mia storia è qui finita Voi capite che vuol dire Se per caso una vecchietta Quando esce dalla chiesetta Trovo un bimbo di trent'anni la città Non è cosa per la sua età Ninna, na, 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 ninna Dormi e sogna, mio tesor Mambo, rumba, rock and roll Yes!